quattordicesima giornata d'andata del campionato di promozione tredicesima partita si gioca allivo mani forti futura fornovo medesano al senese la seconda forza del campionato ospita la decima in classifica al senese che è in perfetto equilibrio nei risultati quattro vittorie quattro pareggi e quattro sconfitte occupa il decimo posto oggi sfida una compagine in gran salute quella di mister rizzelli reduce dalla vittoria per 4-1 nel derby a monticelli al senese che si schiera con il 4-4-2 fuori gambazza alex gambazza simone barbarini e cupa squalificati indisponibile anche il nuovo arrivato saia la futura fornovo medesano risponde con il 4-2-3-1 spicca il ritorno in panchina di cristian crescenzi dopo l'infortunio in campo a sostegno della punta cocchi ci sono sutera bernardini e mora si parte poi cavalieri mezza due se ne va il numero quattro cavalieri serve cocchi spalla la porta cocchi carica al destro tiro il palo di cocchi bernardini due tocchi palloni in profondità per sutera che da solo passa sutera solo contro ballerini sutera al destro e il gol della futura fornovo medesano siglato da giacomo sutera al venticinquesimo pallone comunque passa eccolo qui capitano gambazza carica al destro gambazza tiro a giro che esce un metro al palo alla sinistra di bolzoni e favorisce bernardini poi facchini lotta bernardini comunque riesce a servire cocchi nardinore parte il tiro di cocchi deviato pericoloso ancora una volta l'ex di turno cocchi che guadagna il primo calcio d'angolo in favore della futura fornovo medesano quando siamo al trentacinquesimo otto tentativi della bandierina affidati a billone ora va gambazza col destro chiama una giocata velo pallone fuori dall'aria proprio per billone il tiro che viene salvato sulla linea ieri lancia cocchi esce ballerini al limite dell'area e appoggia la palla a criscoli che però viene anticipato su terra il portiere fuori dalla i pali e su terra colpisce in pieno la traversa squadra in campo per l'inizio del secondo tempo si riparte dagli stessi 22 che avevano chiuso la prima frazione ecco che arriva il fischio dell'arbitro le otta e il primo pallone lo gioca la futura fornovo medesano che ora attacca da destra verso sinistra rispetto alla nostra postazione di commento che serve sulla sinistra su terra uno contro uno con facchini che lo scende attenzione facchini già monito l'arbitro ha già il cartellino giallo in mano facchini era l'unico a monito nel corso del primo tempo e ora arriva il secondo giallo e la conseguente espulsione nel duello serrato con gambazza il pallone per su terra in probabile posizione di offside poi su terra serve cocchi che tira il volo e segna un grandissimo gol al nono minuto è il gol dell'ex dopo le 15 reti in 13 partite con la maglia dell'alsenese ora pippo cocchi segna alla sua ex squadra ed è un gol bellissimo 2 a 0 per la futura fornovo medesano riceve il colpo di testa di davighi che si sovrappone sulla destra lo serve ferraroni con eleganza davighi in trenera di rigore davighi il tiro e la parata di piede torna indietro per via centrali da cavalieri che si complica la vita sbaglia poi bersanelli arriva billone contro bolzoni il tiro fuori davighi che si propone in avanti davighi tocco per cocchi che fuori gioco ma si auto lancia davighi davighi entra in area di rigore ancora lui davighi il tiro che termina lato alla destra del portiere ballerini cocchi break della futura due contro due lanciato benedini che passa in mezzo ai due difensori centrali benedini contro ballerini benedini benedini e il gol del 3 a 0 chiude qui i conti diego benedini recupera palla benedini lo serve mora benedini vicino all'area benedini carica il mancino il tiro in diagonale che fa la barba al palo dalla presenza di hathaway che aveva condizionato mora qui però perde palla l'alsenese che ormai non è più in campo attenzione a hillary che passa hillary in area di rigore hillary contro ballerini il pallone messo in mezzo alla rete spiazzato il portiere che si butta prima del previsto e hillary al 46esimo fa 4 a 0 l'arbitro avvicina il fischietto alla bocca arrivano ora i tre fischi del signore leotta di bologna che conclude la partita tra futura fornovo medesano e al senese 4 a 0 per i padroni di casa vola al momentaneo primo posto in classifica con 25 punti la squadra di mister rizzelli che c'entra l'ottava vittoria in campionato e anche il quarto clean sheet di questa stagione con l'allenatore della futura fornovo medesano nicola sarizzelli per commentare la vittoria 4 a 0 dei suoi sull'alsenese ma soprattutto parto dalla fine i festeggiamenti per un momentaneo primo posto in classifica evento che non era ancora successo nella storia della squadra dei due comuni della valtare guarda allora per il discorso la classifica dico che sicuramente una soddisfazione poi quello che conta è quello che dirà maggio e non quello che dirà adesso la classifica per la prestazione invece insomma siccome dobbiamo ritenerci molto soddisfatti perché abbiamo fatto un'ottima prestazione abbiamo avuto qualche difficoltà nel primo quarto ora la partita era piuttosto bloccata perché loro sono stati bravi a metterci in difficoltà e una volta diciamo trovato il vantaggio siccome siamo stati altrettanto poi dopo bravi a legittimarlo e soprattutto la nota più lieta di oggi è il fatto di essere riusciti a tornare a non prendere gol che era una cosa che non ci succedeva da un po' e da lì passerà tanto di quello che poi faremo da qui in avanti. Quarto clean sheet sottolineato dal mister aggiungo allora visto che il 4 è il numero di oggi 4 gol 4 marcatori diversi. Sì questa è una cosa importante nel senso che da merito e peso a quello che è un gruppo di valore con vari giocatori che rientrano nel tabellino dei marcatori e altrettanto bella è stata però la prestazione di chi questi gol agevolati ho fatto in modo tale appunto che il quarto clean sheet arrivasse quindi insomma oggi a 360 gradi penso che sia stata una prestazione di cui essere contenti e orgogliosi. Mister il 4 numero che ritorna due settimane fa eravamo qui a commentare la sconfitta per 4-1 un po' inaspettata contro il Luzzara poi vi siete ripresi subito a Monticelli segnando quattro gol oggi altri quattro gol alcuni di questi arrivati anche dalla panchina penso a Benedini e Ilari che sono subentrati e sono entrati nel tabellino dei marcatori a testimonianza anche del fatto che c'è un gruppo di 20 titolari. Sì sì un po' quello che ti dicevo prima nel senso che abbiamo la fortuna di avere tanti giocatori che si allenano forte in settimana che meritano di giocare che giustamente raccolgono le soddisfazioni che meritano e penso anche a qualcuno che oggi non ha avuto l'opportunità di entrare e che merita altrettanto come quelli che in campo ci sono andati. Per il discorso del 4 sicuramente fa piacere insomma avere in questi momenti questa vena realizzativa poi ti dico anche meglio 4 vittorie 1-0 che 1-4-0 quindi da martedì insomma dobbiamo tenere la testa per terra testa bassa e tornare a lavorare perché un conto arrivare a una posizione di un certo tipo un altro poi dopo è mantenerlo. L'ultima è sul grande ex di questa sfida Pippo Cocchi che tanto per cambiare ha segnato anche oggi ma ha segnato soprattutto alla squadra in cui aveva giocato l'anno scorso tenendo una media realizzativa altissima erano stati 15 gol in 13 partite non so se ha detto qualcosa oggi Filippo negli spoglietoi prima di questa gara. No era una partita sicuramente che sentiva particolarmente poi dopo ti dico anche che in campo il fatto che fosse una partita che sentisse particolarmente ce ne si accorti poco ma non per dei meriti di oggi ma perché quella è la mentalità che ha tutte le domeniche tutti i martedì tutti i mercoledì e tutti i venerdì quindi insomma va dato grosso merito di questo oggi ha fatto un gol veramente di grossa qualità ma al di là di quello ha fatto proprio una prestazione a livello difensivo a livello proprio anche di collegare gioco e di far salire la squadra molto importante. Testa le prossime due che saranno due trasferte piacentine e poi il calendario proporrà due partite casalinghe anche perché c'è un recupero quindi è uno strano scherzo del calendario prima di Natale ancora quattro step prima della sosta. Sì in realtà sono cinque perché poi dopo a proposito del 4 di dicembre giochiamo qui in casa con il Castelnuovo e quindi adesso guardiamo partita per partita tra una settimana andiamo a Carpaneto che è una squadra che al di là di quello che è il posizionamento sappiamo che è stata costruita per altri obiettivi e ha dei valori importanti e quindi dobbiamo essere bravi a far valere quelli che sono stati i tre punti di oggi e le ultime prestazioni dando un'ottima prestazione anche domenica prossima. Bocca lupo allora per la prossima grazie mister. Mister Edo Guarnieri il tecnico dell'Alsenese stava meglio un'oretta fa ci dicevamo come battuta e oggi è arrivata una sconfitta pesante la quinta sconfitta in questo campionato condizionata anche dal fatto che avete giocato un tempo in inferiorità numerica ma ci siete abituati. Sì devo dire che oggi abbiamo affrontato una squadra che al momento è molto più forte di noi secondo me devo dire poco alla squadra perché finché siamo rimasti in undici la partita secondo me è stata equilibrata nel senso che è vero che loro hanno preso anche una traversa con Sutera però comunque i primi 20-25 minuti l'inizio della partita secondo me era più da parte nostra che da parte loro. Poi purtroppo questa squadra se gli concede degli spazi diventa letale lo sapevamo l'espulsione ci ha un po' scombussato tutti i piani niente oggi dobbiamo prendere su andare a casa e ripartire domenica prossima sicuramente con uno spirito diverso. Diventava poi impossibile nel secondo tempo chiudere gli spazi col fatto che voi eravate rimasti anche uno in meno. C'è un po' di rammarico per un'occasione in un secondo tempo blando e per voi complicato per un'occasione sciupata in modo anche un po' incredibile da Billone che forse pensa di essere in fuorigioco. Sì devo dire che l'unico rammarico che ho oggi è quella occasione lì perché insomma mancava quasi mezz'ora andavamo 2 a 1 meritatamente o meritatamente non voglio neanche dirlo però insomma quando si va 2 a 1 poi le partite cambiano però sarebbe riduttivo ripeto oggi abbiamo affrontato una squadra che è più forte di noi e ci sta a perdere. Hanno pesato in casa senese anche le assenze c'erano trasqualificati perciò prima dicevo eravate abituati a giocare con uno in meno anche memory della partita di dicembre di un anno fa dove l'avate chiuso addirittura in 8 e poi c'era anche l'assenza di Saia nuovo acquisto che per voi sarà importantissimo per raggiungere la salvezza va già segnato al debutto settimana scorsa. Sì noi siamo abituati a giocare in 8 in 9 quindi probabilmente giocare in 11 si penalizza battute a parte sarebbe riduttivo ricondurre la sconfitta all'assenza e se abbiamo questi alibi non miglioriamo e non capiamo che dobbiamo cambiare registro perché la classifica inizia a diventare non troppo bella e ripeto adesso abbiamo un calendario anche complicato dobbiamo un attimino ritrovare le file del gioco e rimettere in campo la cattiveria che abbiamo messo in campo domenica scorsa quando abbiamo giocato 50 minuti in 9 quello è un buon punto di partenza. Ripartire da via allora. Bocca al lupo mister. In esclusiva ai microfoni di Sport Parma Filippo Cocchi che è un attaccante che di solito si concede soltanto alla gioia dei gol e non alle interviste oggi però Filippo te la meriti anche perché si è arrivato a 8 gol in classifica cannonieri con la rete del 2 a 0 bellissima complimenti tra l'altro alla tua ex squadra con cui l'anno scorso hai realizzato 15 reti in 13 partiti insomma vuoi ritornare su quei ritmi lì mi sembra di capire che sei ben intenzionato. Ma diciamo che innanzitutto buonasera a tutti diciamo che sì far gol è quello che mi piace fare più di tutto e ci proviamo non è sempre facile anzi ce l'ha sudare sempre sempre di più domenica dopo domenica ma proviamo a tenere questo ritmo e poi si vedrà. Ci sei riuscito bene dicevo raccontaci un po' quella quell'azione del secondo gol perché è sbucata la palla un po' così all'ultimo secondo e tu ti sei coordinato bene l'hai messa proprio all'incrocio. Sì diciamo che come come tutti quelli che fanno dei gol un po' spettacolari c'è anche un pezzico di fortuna nel senso che da un 1-2 mi sono trovato il pallone a rimbalzare davanti per un attimo ho detto tiro di sinistro poi il rimbalzo non è stato quello che mi aspettavo mi è andata la palla sul destro ho chiuso gli occhi ho calciato e è venuto fuori quel che è venuto fuori. Sei pensato in una frazione di secondo quindi sei stato bravo ad eseguire in modo molto rapido ho cambiato la scelta in una frazione di secondo perché col sinistro a parte che lo uso solo per salire le scale però sì mi è balzato dall'altra parte è un rimbalzo irregolare quindi insomma come ti ho detto prima ho chiuso gli occhi ho tirato poi andata là sotto. Meglio di così non si poteva sta andando molto bene anche la tua squadra anche i tuoi compagni mi piace sottolineare che oggi hanno fatto gol due giocatori saliti dalla panchina e quattro marcatori diversi una squadra che continua a segnare gol a raffic 25 reti siete il miglior attacco ed oggi siete anche premi in classifica. Sì diciamo che è una bella soddisfazione in settimana lavoriamo bene facciamo quello che l'allenatore ci chiede e si stanno vedendo i frutti di quello che facciamo in settimana e sono contento per i ragazzi che sono entrati e insegnato e basta volevo fare un in bocca al lupo al ragazzo Olivieri che ha subito oggi un infortunio e speriamo si riprenda presto Filippo l'ultima domanda che ti riguarda non possiamo perdere l'occasione visto che forse non avremo altre interviste durante l'anno vuoi vincere questa classifica cannoniera in promozione dopo aver fatto tanta prima categoria nelle ultime stagioni avevi segnato tantissimo con la maglia del Fidenza diciamo che le tue medie realizzative erano attorno a una ventina di gol all'anno stai viaggiando a ottimi ritmi l'anno scorso un infortunio ti ha impedito di arrivare lassù in vetta a fine campionato ti poni questo obiettivo da bomber? Diciamo che come ho detto prima a me la domenica piace andare in campo per far gol se no facevo dell'altro Adesso ci sto riuscendo con una discreta continuità vediamo di non perdere il ritmo anche se ovviamente non sarà facile segnare tutte le domeniche però l'importante è che ci siano come andato prova oggi anche gli altri che insomma quando vengono chiamati in causa si fanno rispettare quindi sono contento così adesso programmi a lungo termine non ne facciamo e viviamo domenica per domenica sia per quanto riguarda la classifica marcatori che per quanto riguarda la classifica generale Ci tenevo a ringraziare e a dedicare il gol ad Albertino che è il nipote del nostro storico presidente della futura che è già due partite che ci viene a vedere la prima non ero riuscito a far gol oggi sì quindi forza Alberto Grazie 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 Grazie